Dopo aver ucciso Tonino e Caterina, Cosimo aveva meditato di ammazzare anche l'altro fratello, Carmelo, il germano, che nel pomeriggio del primo marzo aveva trovato i corpi senza vita nel casolare di Contrada Canali. Come Caino, più di Caino. Tanto emerge dal racconto reso agli inquirenti dall'83enne di Serranova in carcere dal pomeriggio di mercoledì. La confessione resa dall'indagato al pubblico ministero Francesco Carluccio, prima del provvedimento di fermo, assume a poche ore dalla svolta nelle indagini contorni ancora più agghiaccianti. Dettagli pure che dovranno trovare o meno conferme dai nuovi rilievi eseguiti nella mattinata di giovedì dai militari del SIS di Bari. I carabinieri della scientifica sono rientrati all'interno dell'abitazione di Tonino e Caterina. Dovranno cercare raffronti, riscontri, repertare tutto ciò che è necessario per capire se poi la confessione resa da Cosimo sia conforme alla verità, a quanto accaduto all'interno di quel casolare. Un ritorno sul luogo del delitto doveroso per cristallizzare in maniera forse definitiva la dinamica di quanto accaduto il 28 febbraio, quando Cosimo, questo ha raccontato agli investigatori, aveva raggiunto la casa di Tonino armato di fucile. Poi una settimana gli indagini, intercettazioni, raffronti, fino a quando il cerchio non si è chiuso attorno all'83enne, a quel fucile rinveduto e sequestrato, compatibile con il delitto. Il movente, questioni economiche legate all'eredità. Ma non solo, Cosimo nel tempo staccatosi dalla piccola comunità di Serranova e anche dalle sue origini, avrebbe coltivato rancore, asti, odio, invidia nei confronti dei fratelli. Di Tonino morto ammazzato insieme alla moglie e di Carmelo scampato, forse solo per fortuna, a quella furia omicida, covata nella testa del reo confesso, poi crollato sotto il peso degli indizi raccolti dagli 007 dell'arma, ha ucciso Tonino e Caterina Cosimo Calò, voleva uccidere anche Carmelo Orain nel carcere di Brindisi a fare i conti, prima ancora che con la giustizia, con la sua eventuale coscienza.